Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come e dove pescare tutti questi pesci. Me ne mancano due, il primo non sono riuscito proprio a trovarlo e il 21, anche se dice che si trova di notte, ci ho provato per oltre un'ora ma non esce. Quindi non lo so, sono sfortunato, magari a voi è uscito, a me non esce. Comunque, partiamo dall'inizio. Il primo, come vi ho detto, non sono riuscito a trovarlo. Il secondo si trova ovunque, 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 aree paludose, ossia questa praticamente, pantano palpitante, quest'area qua. Poi, aree montuose, l'area montuosa è questa, questa qua, questo laghetto qua. Poi, aree costiere e di notte, cioè spiagge sudate, praticamente, quest'area qua. E di notte, mi raccomando. Aree paludose, di notte e con la canna da pesca professionista. Quindi, palludose, pantano palpitante, di notte e con la canna da pesca professionista. Alla fine di questo video vi svelo come fare per ottenerla subito. Aree boscose, ossia la foresta frignante, quest'area qua. Quindi, memorizzatevi, sabbie sudate, foresta frignante, pantano palpitante e questo lago qua. Queste zone qua, praticamente, sono quelle in cui potete pescare i pesci. Poi, montuose, palludose, costiere. Andiamo indietro. Ovunque, ovunque, boscose. Montuose, con la canna da pesca professionista. Paludose, costiere. Ovunque, ovunque, ma di notte. Paludose, montuose e con la canna da pesca professionista. Costiere, ovunque, costiere. Professionista, quindi con la canna da pesca professionista e ovunque. Boscose, ovunque, boscose. Ovunque e con la canna da pesca professionista. Costiere e con la canna da pesca professionista. Boscose, ovunque, 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 ovunque. Di notte e costiere. A questo punto la domanda sorge spontanea. Ma come faccio a prendere la canna da pesca professionista? La canna da pesca professionista è questa blu, vedete? Questa è quella normale, questa è quella professionista. Se usate questa canna da pesca ovunque, pescate tutti i pesci. Il mio consiglio è questo. Quindi, torniamo al menu principale. Contrariamente alle sfide, i pesci possono essere pescati in questo modo qua. In questo modo, diciamo, eviterete anche, magari, sia la tempesta, sia i giocatori avversari. Andate su modalità e mettete laboratorio. Dopodiché, avviate la partita. Prima di iniziare, andate nelle opzioni e mettete esplosivi, notte e poi la zona indifferente. Fatto questo, lanciate la partita e troverete nella mappa il più delle volte la canna da pesca professionista. La trovate praticamente ovunque. Se siete fortunati, vi basterà rompere uno dei barili dove ci sono le varie canne per avere quella da pesca professionista. Diciamo, in questo modo qua, potete pescare tutti i pesci con tranquillità. Non ci sono giocatori a rompervi le scatole. Non vi è la tempesta a rompervi le scatole. Quindi potete tranquillamente pescare i pesci che vi servono. Ora, vediamo se riesco a raggiungere un punto di pesca dove ci sono le canne. Così vi faccio vedere. Raggiungiamo spiagge sudate, anche se è un po' lontanuccio. Purtroppo non vi sono zone ben precise da selezionare. Cioè, nel senso che non vi sono quelle zone di cui vi ho parlato, a parte Brughiere e Brumose. Quella la potete scegliere. E quindi magari vi teletrasportate direttamente a Brughiere e Brumose. Però alcune località dove pescate solitamente non sono riportate. Quindi, diciamo, dovete teletrasportarvi in una zona vicina. Siamo quasi arrivati. Ci vuole un po'. Diciamo che con questa modalità, ossia laboratorio, potete tranquillamente pescarvi tutti i pesci senza problemi. Quindi senza giocatori avversari, senza tempesta e con calma. Però le sfide ovviamente non possono essere fatte. Quindi non provateci a fare le sfide perché non ve le conta. E nemmeno le schede punti. E nemmeno le altre. Quindi, diciamo, è solo una modalità relax che vi permette comunque di collezionare i pesci. Anche perché non vi danno nulla. Non vi danno esperienza. Non vi danno obiettivi. Non vi danno schede punti. Non vi danno nulla. E' solo una cosa, diciamo, da collezionismo, insomma. Cioè, una cosa per dire, wow, ho trovato tutti i pesci. Qualcosa del genere, insomma. Ok, siamo arrivati a spiagge sudate. Quindi andiamo dove ci sono le canne da pesca. Ce ne sono diverse. Colpiamo. E abbiamo preso quella normale, che non va bene. Quindi riprovate fino a quando non trovate quella blu. Vediamo. No, anche questa è normale. Diciamo che con questo metodo riuscirete a trovarla, solitamente. Però, se siete sfigati, magari come me, a volte vi capiteranno solo canne da pesca normali. Però, in questo caso qua, io vi consiglio, se non vi esce quella canna da pesca, anche se avete selezionato esplosivi, di rigenerarvi e andare in un luogo diverso. Sempre con questo metodo. Quindi colpite i barili e troverete le canne da pesca professioniste. Allora, andiamocene questa volta al laghetto qua. Magari siamo più fortunati. Vi posso assicurare, ragazzi, che mentre facevo, diciamo, il collezionismo di pesci, mi uscivano solo canne da pesca blu. Adesso mi escono solo canne da pesca normali. Comunque, con i settaggi che vi ho detto, diciamo, avete una possibilità di trovarle, insomma. Ecco qua, vediamo e speriamo che esca quella professionista. Ovviamente manco per il cavolo. Andiamo di qua e vediamo se ci sta. Se non c'è, ho sbagliato qualcosa. No, non ho sbagliato perché ci sono gli esplosivi. Allora, vediamo. Ok. Vediamo un attimo. Oh, ce l'abbiamo fatta. Dopo la figuraccia ce l'abbiamo fatta. Eccola qua. E adesso non vi resta che pescare nelle aree dove vi ho indicato di notte, quindi nel momento della giornata di notte, e con questa canna da pesca. Così facendo potete pescare tutti questi pesci, ad eccezione del primo che non so effettivamente dove si trova, e del 21 che dovete avere fortuna. Così facendo potete pescare tutti i nostri, ad eccezione del primo che si trova.